Droga in viaggio, traffico di stupafacenti e armi dalla Sicilia alla Germania. Sono 20 le persone arrestate nelle ultime ore tra Palermo e Rottweil nell'ambito dell'operazione Meltemi. L'organizzazione era capeggiata dal pluri pregiudicato a 65enne Placido Anello. Carta straccia. Desecretati gli archivi sulla strage di Ustica del 1980, ma i familiari delle vittime chiedono un intervento da parte della politica. Solo comunicati stampe e articoli di giornale sarebbero stati custoditi sotto chiave in tutti questi anni. Trapani non sceglie. A nulla è servita la corsa sindaco in solitare di Pietro Savona. Quorum scongiurato con il 26-75% dei votanti e nel comune arriverà un commissario. A nulla sembrano essere serviti gli appelli del PD dopo l'uscita di scena di Fazio e Dalì. Vorrei ma non posso. Il rispettoso rifiuto di Pietro Grasso alle lusinghe del PD che lo voleva candidato per le prossime regionali riapre i dubbi nella coalizione centro-sinistra moderata. PD nuovamente in cerca di un candidato tornano in auge le primarie. Buonasera e ben ritrovati. Avete appena ascoltato i titoli. Andiamo subito ad aprire con la notizia di cronaca del giorno, ovvero l'arresto di Placido Anello che si era trasferito da Palermo in Germania per mettere in piedi una banda dedita al traffico internazionale di armi e droga. Dunque ha arrestato il pluripregiudicato imprenditore palermitano e con lui altre 19 persone ritenute appartenenti ad un'associazione a delincole transnazionale. Ce ne parla Giorgia Tabita. Un'organizzazione criminale transnazionale che avrebbe trafficato droga e armi tra Palermo e Rottweil in Germania composta da pregiudicati per reati gravi e con interessi nel settore della ristorazione. Sono 20 le persone fermate nelle ultime ore dalla Guardia di Finanza di Palermo e dalla Criminal Policy Direction nell'ambito dell'operazione Meltemi. L'inchiesta avrebbe preso spunto dal sequestro del 14 giugno 2016 al porto di Palermo di una pistola modello Smith & Wesson 357 Magnum trovata addosso al 46enne Massimiliano Bellavia, sceso dal traghetto proveniente da Genova e subito arrestato. Grazie alle indagini portate avanti dalle autorità giudiziarie del capologo siciliano e da quelle di Costanza i militari hanno potuto azzerare il gruppo criminale capeggiato dall'imprenditore palermitano pluripregiudicato Placido Anello di 65 anni. Ulteriori accertamenti inoltre hanno permesso di risalire all'attività di alcuni membri della banda nel campo dei stupefacenti e di fermare un carico di droga in arrivo in Sicilia. La Criminal Policy Direction di Rottweil inoltre avrebbe ricostruito numerosi episodi di compravendita di stupefacente da parte di cittadini italiani dimoranti in Germania. Anello, ritenuto personaggio chiave del presunto traffico, si era trasferito anni fa in Germania dove gestiva due ristoranti, uno a Rottweil e l'altro a Willingen. Le Fiamme Gialle di Palermo hanno dunque seguito il sequestro preventivo d'urgenza ai danni di Anello rappresentato da circa 40.000 euro in contanti, conti correnti, nove terreni, sei villini di cui uno di assoluto pregio, due magazzini e dieci abitazioni in appartamento. Un altro carico ma di natura diversa era diretto in Sicilia. A 100.000 euro falsi, nascosti in due trolle, il Mario Di Maio, 44enne di origine partenopea ma residente nel quartiere Picanello di Catania, è stato arrestato dalla polizia al porto della città etnea appena dopo essere sbaccato assieme alla FIA di dieci anni da un traghetto proveniente da Napoli. Le forze dell'ordine durante la perquisizione hanno trovato banconote false in pezzi da 50 euro, divisi in due bagaglie e avvolte in fogli di giornale ben nascosta tra gli indumenti ed effetti personali. Ogni pezzo abilmente falsificato e difficilmente riconoscibile sarebbe costato circa 6 euro. Stamane ha avuto luogo il processo per direttissimo. Adesso un'altra notizia di cronaca, segni di tagli, morsi ed escoriazioni nella testa e sul corpo, anche sulla schiena. Una bambina di un anno è arrivata nel primo pomeriggio di ieri all'ospedale di Partinico in gravissime condizioni e priva di conoscenza. I medici, che con un attack hanno accertato la presenza di lesioni cerebrali molto serie e sospettano si tratti di maltrattamenti. La polizia, che ha già ascoltato i genitori e i parenti della piccola, sta indagando per capire come la bimba sia potuta arrivare al nosocomio in quelle condizioni. Lasciamo per il momento la cronaca e ci spostiamo sulla politica che tiene banco negli ultimi giorni. Soprattutto è stato un fine settimana di votazioni per i ballottaggi. Terminato anche questo turno, ecco i nuovi sindaci di Sciacca, Termini Merese, Niscemi, Scordia, Palagonia e Floridia. A Trapani invece non si raggiunge la soglia minima dei voti e dunque mancanza di quorum e il comune viene commissariato. Sentiamo. Sono stati chiamati nuovamente alle urne per decidere una volta e per tutte da chi verranno rappresentati per i prossimi cinque anni. Sette i comuni in cui ieri i cittadini hanno dovuto votare per il turno del ballottaggio. A Sciacca sarà l'avvocato tributarista, nonché candidata del centro-sinistra, Francesca Valenti, il nuovo sindaco. La Valenti ha battuto l'avversario Calogero Bono, presidente del consiglio comunale uscente del centro-destra, con il 54,03% di voti. Francesco Giunta del centro-destra sarà invece il primo cittadino di Termini Merese, con il 50,59% di consensi. Successo a Niscemi per Massimiliano Valentino Conti, che si impone su Francesco La Rosa, entrambi sostenuti dalle liste civiche, con il 58,65% di voti. A Palagonia a conquistare la poltrona del comune è Salvatore Astuti, con il 55,96% di voti. Nell'altro comune Etneo, Scordia, a prevalere su Maria Contarino, è Francesco Barchitta, con il 53,71%. Vince la sfida a Floridia Giovanni Limoli, sostenuto da liste civiche, che supera con il 59,04%, il candidato del centro-sinistra, Orazio Scalorino. Turno particolare per Trapani, dove l'unico candidato, Piero Savona, non ha raggiunto la soia minima dei consensi. Il comune adesso verrà dunque commissariato. Andiamo proprio a Trapani, perché non è stato raggiunto il quorum, come avete appena sentito. Il candidato sindaco, Pietro Savona, resta fuori dai giochi, pur essendo solo nel ballottaggio. Con 26,75% dei votanti nel comune arriverà un commissario. A nulla sembrano essere serviti gli appelli ad andare a votare dopo l'uscita di scena di Fazio. E da lì ascoltiamo. Trapani ha scelto di non scegliere. Al timone del comune arriverà un commissario. Nel ballottaggio di ieri non si è raggiunto il quorum, con un'affluenza del 26,75%, persino più bassa di quella del ballottaggio di cinque anni fa. Fuori Pietro Savona, solo nella corsa dopo il ritiro di Girolamo Fazio, che era uscito di scena in seguito al suo coinvolgimento nell'inchiesta Mare Mostrum. Su 60.023 elettori sono andati a votare solo in 16.055 persone, percentuale troppo bassa rispetto al 50% previsto per legge. Non erano mancati gli appelli, in primis dal candidato Savona e dai ministri e i leader del PD, da Maurizio Martina, Graziano Del Rio, che avevano lanciato una campagna pro adesione al voto e contro l'astenzionismo. La scelta è fra me e un commissario, aveva detto Savona nei giorni scorsi. E in effetti i trapanesi, pur non esprimendosi, una scelta l'hanno fatta. Nelle settimane scorse, la bufera aveva colpito prima Fazio, arrestato per corruzione, è risultato più eletto a primo turno e poi ritiratosi, non presentando la lista degli assessori, e dopo il senatore forzista Antonio Dalì, che era stato raggiunto da una richiesta di obbligo di soggiorno un'ora dopo la chiusura delle liste. Savona si è ritrovato dunque da solo, ma stavolta non avere sfidanti non è servito a nulla. E sull'argomento si è espresso anche il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, che più che riaprire i giochi, che ormai verosimilmente resteranno chiusi, ha voluto esprimere la propria opinione, rimescolando così le carte, e ha detto che non sono d'accordo con la scelta di non costituire il Consiglio Comunale. I consiglieri eletti dovrebbero comunque insediarsi, nonostante l'arrivo di un commissario a Trapani. In ogni caso, ha detto Crocetta, non voglio sostituirmi alla legge, potrebbe non attribuirsi il premio di maggioranza che andrebbe al sindaco, ma un premio comunque che andrebbe alla coalizione. Ha espresso dunque così la propria opinione, intanto però, per quanto riguarda il commissario, potrebbe essere, secondo indiscrezioni, l'ex procuratore capo di Palermo, Francesco Messineo. Per informazioni più dettagliate, soprattutto più certe, dovremo comunque aspettare domani mattina. Adesso lasciamo l'argomento amministrativo e parliamo invece di elezioni regionali, perché dopo la decisione del Presidente del Senato Pietro Grasso di rifiutare rispettosamente l'offerta di correre per le prossime elezioni regionali nella coalizione di centrosinistra moderata, si apre il toto candidato. Ce ne parla Lorenzo Infusa. Un rispettoso rifiuto nato dal prevalere del senso di responsabilità sull'ambizione personale di guidare il nuovo rilancio della propria terra. Il no grazie del Presidente del Senato Pietro Grasso all'offerta del PD di diventare il candidato governatore delle forze di centrosinistra moderate apre ad un'ulteriore fase di incertezza nella coalizione. Parola fine alla vicenda, quella di Grasso, arrivata dopo il vertice con i dirigenti DEME, e il sindaco Leoluc Orlando, espressione di quella larga intesa che si puntava a ribadire proprio con l'ex magistrato palermitano. Volutate le implicazioni politiche e istituzionali di tale scelta, citava la nota diramata da Palazzo Madama, con temi importanti per il Paese quali la legge elettorale e la legge di bilancio in discussione, si è convenuto sull'impossibilità di proseguire sull'ipotesi di candidatura proposta dal PD. Ancora più importante è la precisazione finale, tali doveri istituzionali mi impongono dunque di svolgere il mio ruolo di presidente del Senato finché sarà necessario. Insomma, più un vorrei ma non posso che un no, non mi interessa da parte di Grasso. Probabilmente anche lui, come il PD e le forze alleate, sperava in elezioni politiche anticipate, così da concludere anticipatamente il mandato e poter riaffacciarsi alla corsa a Palazzo d'Orlean. Adesso, però, la coalizione che ha governato con Crocetta per cinque anni si ritrova un'altra volta senza candidato. L'ipotesi di convergere proprio sul governatore uscente, anche se sperata dal diretto interessato, non avverrà. Troppa distanza con alfaniani e centristi, che hanno recentemente anche lasciato il governo, quindi appoggiare Crocetta significherebbe per il PD perdere il sostegno degli alleati. Inevitabile il ritorno in auge delle primarie, a meno che non si trovi quel nome condiviso che metta tutti d'accordo, una sorta di alter ego del candidato perfetto, sedotto e che poi ha abbandonato. E si torna a parlare della tanto tristemente nota strage di Ustica del 1980. Sarebbero stati desecretati gli archivi sulla strage, ma all'interno non ci sarebbe stata alcuna verità rilevante, soltanto comunicati stampa e articoli di giornale custoditi per tutti questi anni. Così i familiari delle vittime hanno chiesto un intervento deciso e perentorio da parte della politica. Nessuna verità negli archivi che adesso vedono la luce e nulla di nuovo rispetto a quello che è accaduto nella strage di Ustica quel 27 giugno 1980. Un aereo militare sparò un missile che sul cielo della piccola isola siciliana colpì in pieno il DC-9 dell'Itavia in volo da Bologna a Palermo. Tre anni dopo la direttiva Renzi, che dispone la desecretazione degli atti sulle stragi degli anni 60, 70 e 80, il Ministero dei Trasporti non ha depositato nulla se non qualche atto già noto della Commissione Luttazzi. Domani saranno 37 anni dalla strage e Dare Bonfietti, rappresentante dell'Associazione Parenti delle Vittime, esprime la rabbia e il dolore dei familiari delle 81 persone coinvolte nell'incidente. Solo sconcerto per un paese che non è in grado di custodire la documentazione prodotta. L'Associazione adesso chiede infatti un intervento della politica e della magistratura per individuare i responsabili della sparizione di tutti i documenti relativi alla strage. Non c'è nulla dell'aviazione civile né del gabinetto del Ministero dei Trasporti. Lo Stato Maggiore della Marina non porta nessun documento dal 1980 al 1986 e in Prefettura, a Bologna, non è stato depositato nulla. I documenti dei servizi segreti non sono altro che fogli su rassegna stampa e articoli sul caso e inoltre manca la digitalizzazione di ogni singolo documento. Dalla strage di Ustica a quella in cui morirono Paolo Borsellino e la sua scorta, la ciclostaffetta e l'agenda ritrovata ha concluso ieri la propria prima tappa a Milano portando con sé un'agenda rossa che attraverserà l'Italia e che raggiungerà Palermo il 19 luglio 2017. data in cui ci saranno le celebrazioni del 25esimo anniversario della strage. Sentiamo. Ciclostaffetta agenda ritrovata dedicata alla strage Borsellino è partita da Bologna e è arrivata per la prima tappa a Milano. Il gruppo di ciclisti capitanati da Salvatore Borsellino è stato ricevuto al Comune di Milano dal Sindaco Giuseppe Sala. CTS, compagnia televisiva siciliana, seguirà la ciclostaffetta con collegamenti indiretta all'interno della trasmissione Status condotta da Roberto Marco Oddo. Tutti i giorni dalle 15.30 su Calane 90 e in streaming su cts.it. E cambiamo decisamente argomento per parlare di un altro appuntamento. Ufficializzati i primi dettagli del programma per il festino di Santa Rosalia del prossimo 14 luglio. Giunta ormai alla sua 393esima edizione. Palermo pronta a dare il meglio per onorare la propria matrona. Ce ne parla Giorgia Tabita. Una tradizione lunga a 393 anni e che anche quest'anno intende mettere in piedi una festa all'altezza della sua matrona. Saranno le piazze palermitane a fare da palcoscenico al festino di Santa Rosalia la sera del prossimo 14 luglio. Secondo i primi dettagli del programma saranno Piazza Marina, Piazza Bellini e Piazza Bologni, le protagoniste della Kermessi in onore della Santa, attive già da qualche sera prima del festino. Piazza Marina sarà invasa dalle correnti musicali, dalla più moderna e rock a quelle più tradizionali, mentre Piazza Bellini darà spazio al folk con il ballo della Cordella e un gruppo di Messina. L'ultima invece, Piazza Bologni, si trasformerà in teatro per ragazzi con i triunfi di Rosalia col gruppo dei Cialoma. Giorno 12 invece, dentro la Fontana Pretoria, si terrà uno spettacolo videomapping accompagnato da una danza di grandissimo impatto. Con partenza dalla cattedrale e infine, la Sera della Santa verrà accompagnata lungo quattro tappe da grobati e dal racconto del miracolo di Rosalia, scendendo verso il Cassaro, i quattro canti, fino a Porta Felice. E adesso gli ultimi dettagli sul closing del Palermo. Oggi giornata cruciale per la società Rosa Nero. Il presidente a Stellestrisce, Pol Baccaglini, è giunto in mattinata nel capologo siciliano e ha incontrato il sindaco rieletto Leluc Orlando per riprendere il discorso su Stadio Centro Sportivo. Chieste dal primo cittadino rassicurazioni circa la solidità e la continuità dei progetti. Poi nel pomeriggio alle 16, Pol Baccaglini ha fatto una diretta Facebook sulla pagina dell'OS Città di Palermo, con i tifosi che chiedevano, con i commenti, delle lucidazioni sulla validità del progetto. Ecco, il nuovo possibile presidente del Palermo ha risposto in parte lasciando comunque un alone di mistero sulla trattativa. Ha detto al momento opportuno tutto verrà dichiarato, abbiate fiducia. Una diretta durata 30 minuti in cui il futuro presidente del Palermo ha cercato più di tranquillizzare i tifosi, non rilasciando comunque dichiarazioni rilevanti dal momento che tutto continua a restare coperto dal segreto per la trattativa. E questa era l'ultima notizia. Vi invito a seguire le prossime edizioni per ulteriori dettagli. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi lascio una breve selezione di notizie dall'Italia e dal mondo e a seguire il meteo. Arrivederci. Sono pronto a farmi carico della responsabilità con Forza Italia e la coalizione che deve essere unita e moderata. Così Berlusconi con una nota. Il leader di Forza Italia torna alla ribalta dopo la vittoria ai ballottaggi con 12 capoluoghi di provincia strappati al centro-sinistra. Una nota dunque che festeggia la vittoria ma che rappresenta anche una sorta di avvertimento a Salvini riguardo alla guida del centro-destra. E' proprio il leader della Lega, si dice, entusiasta per la vittoria in molti comuni del nord e per il risultato del carroccio anche in molti centri al di sotto del Po. Dal PD rimane il commento della scorsa notte di Renzi. Nei centri con più di 15.000 abitanti abbiamo vinto 67 a 59. Soddisfatto anche il Movimento 5 Stelle che vince 8 ballottaggi su 10. Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l'attore Domenico Diele. Lo ha stabilito il GIP del Tribunale di Salerno. Diele è accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Ilaria Di Lillo avvenuta nella notte tra venerdì e sabato nel Salernitano. Le parole dell'artista, chiedo perdono, sono eroinomane, ma la droga non c'entra, mi sono distratto con il cellulare. Il GIP del Tribunale di Alessandria ha convalidato il fermo di Laura Bombonati. La 26enne è fermata la scorsa settimana nell'Alessandrino con l'accusa di essere una Foreign Fighters dell'Isis. La donna si avvalsa della facoltà di non rispondere. L'ipotesi di reato, partecipazione ad associazione terroristica internazionale. In chiusura allo sport, giornata di vigilia per l'Italia Under 21 che domani a Cracovia affronterà la Spagna nella semifinale del campionato europeo. Alle 19.30 la conferenza stampa del CT di Biagio e di Gigio Donnarumma. Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebimeteo. Nel corso di questo martedì insisterà l'alta pressione su gran parte d'Italia salvo infiltrazione di era più fresca e instabile sulle regioni settentrionali responsabili di qualche temporale pomeridiano su Alpi, Prealpi e localmente sull'Alta Valpadana. Vediamo anche il dettaglio relativo alla nuvolosità con addensamenti stratiformi in transito al nord nella prima parte della giornata e poi annuvalamenti tenderanno a svilupparsi al pomeriggio sui settori alpini e prealpini responsabili di rovesci e temporali. Vediamo quindi il dettaglio relativo a tutta la nostra penisola con un cione in gran parte sereno poco nuvoloso, in particolar modo al centro-sud mentre al pomeriggio quegli addensamenti di cui vi parlavo poc'anzi si svilupperanno sui settori montuosi, forieri di fenomeni temporaleschi a tratti anche intensi, i locali sconfinamento tra il pomeriggio e la prima serata verso l'Alta Valpadana e le pienure del Veneto. Guardate le temperature ancora piuttosto calde su gran parte della penisola ma farà molto caldo in particolare al sud con punte fino a 37-38 gradi. Con questo è tutto per aggiornamenti in tempo reale Grazie per la visione!